Noi abbiamo deciso due anni fa di cambiare il nostro gestionale e siamo arrivati a Microsoft Dynamics Nav per una decisione anche della nostra casa madre che con altri filiali lavora già con Microsoft. In più arrivavamo da un gestionale che ci crollava una volta al giorno. Siamo partiti senza nessuna particolare difficoltà. Pensi che il nuovo gestionale è stato introdotto solo dopo 14 settimane dopo il primo incontro con le persone di NavLab. Siamo partiti con un go live il primo gennaio e dallo stesso giorno sono partiti tutte le spedizioni senza neanche nessun errore. I vantaggi sono molti. In prima linea c'è il nostro sistema B2B e-commerce. È un sistema che avevamo già però è stato perfezionato e infatti adesso 95% degli ordini urgenti vengono piazzati tramite questo canale. Un ordine piazzato in questo sistema direttamente dal nostro cliente. Un altro vantaggio è il cross-stocking. Il cross-stocking è stato perfezionato in modo tale che la merce sosta da noi solo a breve tempo in magazzino. e praticamente con due clic abbiamo pronto tutti i documenti per l'entrata e per l'uscita della merce. Un altro è stato anche il potenzialamento del flusso dei dati fra la nostra casa madre in Germania e il Nav Microsoft perché non dobbiamo quasi nessun dato iserire manualmente. Con un semplice clic vengono importate la merce che arriva, vengono cambiati i dati del materiale, vengono importati i listini dei prezzi e così via. Un altro vantaggio è anche il tracking della merce. Con la produzione delle etichette direttamente dal sistema Nav, vengono etichettate direttamente alla preparazione i nostri pacchi e sono tracciabili dal primo momento. Noi abbiamo formato il personale già esistente qui in azienda. Il ritorno dell'investimento c'è di sicuro. Noi prima nel Customer Care lavoravamo con quattro persone. Adesso, nonostante dell'aumento del fatturato, lavoriamo solo più con due persone. Nonostante dell'aumento del fatturato, lavoriamo solo più con due persone.